Un chilo di eroina nell'addome di un passeggero a Capodichino. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente i finanzieri in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di origine gambiana, che trasportava quasi un chilo di eroina con la tecnica del body Peckers, ossia occultata in ovuli. Il 22enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stava per lasciare l'aeroporto quando è stato fermato e sottoposto a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da altri segnali di rischio, hanno accompagnato il viaggiatore all'ospedale, dove un esame radiografico ha evidenziato la presenza nell'addome di ben 80 ovuli. I successivi accertamenti eseguiti sul contenuto degli involucri hanno confermato che si trattava di eroina. Il responsabile è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Poggio Reale.